Ciao e benvenuta in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 delle migliori cappe aspiranti del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato la cappa da cucina Klarstein Aurica 60. La Klarstein Aurica 60 incorpora un motore da 190 Watt con modalità ricircolo. Ciò garantisce l'eliminazione del vapore nelle cucine di piccole e medie dimensioni. Inoltre presenta tre livelli che gli consentono di raggiungere un tasso di estrazione fino a 610 metri cubi di aria all'ora. Inoltre con i suoi 60 cm di larghezza è molto pratica. Possiede inoltre un pannello di controllo touchscreen integrato con display digitale. Smart! Notiamo un'illuminazione indipendente con due lampade a LED da 1,5 Watt che consentono di avere una migliore visibilità sul piano cottura. Infine il suo design elegante si adatterà bene alla tua cucina. In effetti ha una linea senza tempo che si sposa perfettamente con cucine moderne e classiche. Come al solito su Top Tech se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet vai alla descrizione di questo video avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato la cappa da cucina Hermes 606 S. Ecco la cappa da cucina Hermes ha un sistema di arresto a tempo che spegne automaticamente il dispositivo dopo un certo periodo di tempo. Questo ti offre un grande vantaggio quello di risparmiare energia. Inoltre molto importante funziona in modalità silenziosa quindi cottura confortevole e discreta. Questa cappa aspirante incorpora anche un'interessante illuminazione a led. In questo modo illumina perfettamente il tuo piano cottura il che ti permetterà di gustarti dettagliatamente la visione dei tuoi cibi cotti o arrostiti. Inoltre la cappa Hermes può essere regolata su quattro livelli di ventilazione il che libera completamente la tua cucina da tutti i tipi di fumi e odori. Inoltre la sua forma inclinata ti permetterà di avere una visione completa. Al secondo posto abbiamo selezionato la cappa aspirante Charra CBC S6201. Ecco un modello molto popolare tra i grandi chef. In effetti il suo principale vantaggio risiede nel suo motore iper-efficiente. Quest'ultimo può raggiungere una potenza di 65 watt che convertiti scatenano un flusso d'aria che può superare i 380 metri cubi in un'ora. Pertanto è perfetto per cucine di qualsiasi dimensione. Inoltre è un modello che ha fino a tre livelli di velocità. Fondamentalmente ti fa risparmiare davvero molta energia. Possiede tre filtri antigrasso che vengono utilizzati per una migliore evacuazione o riciclaggio dell'aria. In termini di design è moderna e di colore bianco interessante. Inoltre è realizzata in acciaio inox che dona il giusto tocco in termini di durevolezza. Insomma, secondo posto meritato. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet fai click sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato la cappa aspirante Charra CBC S6903. Con una larghezza di 60 centimetri, un'altezza di 80 centimetri e una profondità di 50 centimetri, questa cappa aspirante è facile da installare. Inoltre non c'è bisogno di avere uno spazio dedicato sopra il piano cottura. Come vedete, è possibile installarla sotto i pensili. È dotata di un motore con una potenza che oscilla intorno ai 75 watt e che si adatta alle tue diverse cotture. Inoltre offre tre velocità di ventilazione per una capacità di estrazione che si aggira intorno ai 200 metri cubi all'ora. Ottimo per assorbire tutto il grasso, l'umidità e persino la polvere. Inoltre è possibile utilizzare facilmente questo dispositivo. Grazie ai suoi pulsanti possiede infatti tre pulsanti di velocità, uno stop button e un pulsante per l'illuminazione. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare click sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a scegliere, mettici un like e iscriviti al canale Top Tech per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!